Buongiorno, io sono Marinella Coppo, sono una dottoressa titolare dello studio dentistico a Corsico, provincia di Milano. Sinceramente pensavo che venire in questo corso toglierò del tempo al mio studio e non fatturavo in quei due giorni e perdevo a spendere il tabacca di corsa. Mi è piaciuto tanto, ho scoperto dei miei punti deboli, delle cose in cui io sbaglio, sia nella gestione del mio personale, su dove devo lavorare di più. Il fatto che viene messo in primo posto la persona, non come dipendente, non come una persona che deve essere sfruttata, che ci deve aumentare il fatturato, ma una persona vera con dei sentimenti che li dobbiamo apprezzare, le cose in cui io sbaglio effettivamente e avendo una squadra, magari possiamo vincere insieme. Lo consiglierei a tutti, anche il mio marito compreso, che poi ha già fatto. No, a parte gli scherzi, lo consiglierei a tutti perché sia che siano titolari di uno studio, sia che abbiano un'azienda piccola, un'azienda grande, secondo me ti fa vedere delle cose che dentro te stesso, magari ce li hai o pensi che siano scontate o banali, però escono fuori. Sì, il fatto di essere seguito proprio da una persona, di venire in studio, di non darti un programma da seguire e poi fregarsene se tu raggiungi o meno l'obiettivo, è proprio di seguirti come un genitore, come un professore che ti prende per mano e ti segue.